bella regà auguri di buon natale bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale oggi gift card to friends scambio assurdo ragazzi è ritornato a funzionare non è massivo ma andrà a sostituire il con to com che è pacciato requisiti un amico che ci dona mano ci servirà il com con all'interno un qualsiasi vicolo che non perdiamo e il nostro amico dovrà possedere il deposito veicoli con all'interno almeno un veicolo speciale a questo punto ci dovrà invitare nel suo ceo quindi nel sicuro server dovremo essere associati e dovrà andare a sbattere contro la serranda del suo deposito veicoli col menu interazione aperto ragazzi a questo punto dovrà scendere noi andremo al posto di guida quando scenderemo dal veicolo ragazzi dovremo andare su inventario cliccare ragazzi veicoli rc e chiamarne uno qualsiasi io consiglio sempre l'rc bandito una volta che siamo nella rc bandito teniamo premuto il tasto per uscire triangolo y e sbada bam e regà saremo buggati e lo capiremo perché lampeggiamo quando usciamo dall'rc quindi adesso raga vi dovete andare a richiedere il vostro com e una lg da sacrificare non dovete spostare ragazzi da questa zona perché se vi allontanate vi sbagherete quindi dovete dirgli al vostro amico di fare questo per voi quindi chiamate il com gli dite dov'è e poi ve lo fate portare ragazzi una volta che sarà arrivato con il com semplicemente salite sul veicolo in questo caso la lg che sarà il veicolo che sacrificheremo ragazzi e una volta sopra il veicolo andremo a fare uno switch di franklin come avete visto in basso a destra e rifiutate il messaggio per andare in storia in questo caso cosa facciamo raga dobbiamo metterci dietro il nostro com far mettere il nostro amico in pausa noi dovremo fare freccia a destra per entrare nel com il nostro amico scenderà in automatico noi ci allontaniamo ragazzi andremo a fare tre switch di franklin ragazzi è facile ed è fondamentale per far funzionare il glitch a questo punto gli dite al nostro amico di andare nel vecchio punto scambi che adesso farò vedere e portare già il veicolo da darci noi dovremo fare entra da solo nel com e saremo in una schermata nera infinita faremo lo switch di franklin ragazzi immaginario ci darà lo stesso messaggio per andare in storia noi lo rifiutiamo e saremo spawnati nel vecchio punto scambi qua a questo punto se il vostro amico ha già portato la macchina ci salite rag se no dovete fare lo switch di franklin ogni 20 secondi ogni 10 secondi in modo tale da prolungare il bug e rimanere qua finché il nostro amico non ci porta il veicolo a questo punto ragazzi saliamo sul veicolo e appena saliremo sul veicolo e sbada bam abbiamo preso il veicolo ragazzi in tre minuti glitch facile e veloce l'unica cosa che per riscambiare raga dobbiamo ripetere tutto quanto da capo non è massivo però se dovete scambiare un veicolo al volo raga è la cosa migliore perché fare la base operativa per un veicolo è veramente una rottura di cazzo quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete i miei video altro come ragazzi buon natale felice feste e ci sentiamo alla prossima bella raga